Crea il tuo primo loader in due minuti. Il primo step sarà creare la cartella del progetto, al cui interno inseriremo un file HTML per la struttura e un file CSS per lo stile e l'animazione. Il secondo step sarà aprire la cartella del progetto con Visual Studio Code. Una volta entrati in Visual Studio Code, l'editor di testo che utilizziamo, lanciamo all'interno del file HTML l'emmet HTML 2.5 per impostare il foglio HTML in automatico. Il terzo step consiste nell'inserire all'interno del body del nostro HTML il tag div, a cui daremo una classe che chiameremo loader. Quarto step, passiamo al CSS, ma prima ricordiamoci di linkare il nostro foglio di stile all'interno dell'HTML. Adesso, all'interno del file CSS, creiamo la nostra classe loader, che richiameremo attraverso il selettore per classe, quindi .loader. Con questa classe andremo a gestire diverse proprietà CSS, come la larghezza, la rotondità dei bordi e il colore di essi. Quinto step, adesso andiamo a gestire l'animazione. Innanzitutto, all'interno della classe loader, richiamiamo le proprietà AnimationName e AnimationDuration, una per dare il nome all'animazione e una per determinare la durata di essa. Queste due proprietà sono fondamentali per far sì che l'animazione funzioni. Oltre a queste, però, specifichiamo anche, attraverso la proprietà AnimationIterationCount, con valore infinite, che deve continuare all'infinito. Benissimo, dopo aver specificato queste proprietà all'interno della classe loader, andiamo a creare la nostra animazione. Utilizziamo adesso la regola at keyframes, seguita dal nome dell'animazione che stiamo gestendo, in questo caso, loader. All'interno delle graffe del keyframes andremo a specificare ciò che deve avvenire nella nostra animazione, ovvero andremo a ruotare di 360 gradi all'infinito il nostro loader. Come faccio adesso a visualizzare la mia animazione? Grazie all'estensione Live Server di Visual Studio Code possiamo visualizzare il nostro risultato direttamente sui browser, in locale. Ed ecco qua il nostro bellissimo loader. E tu, sei riuscito a crearlo? Segui Aulab per altri tutorial. Grazie a tutti.